Musica Devo chiamare Genki e aggiornarlo Ehi, trovato nulla nella bottega di film? Sì, so perché sta facendo tutto questo È successo qualcosa a suo fratello Qualcosa di grave Oh cavolo Rick lavorava alla Robson Era il loro scienziato capo sul Nuform Wow E pare che il Nuform l'abbia fatto ammalare Simon Krieger si ostina a ripetere che sì Sta mentendo Finn e il fratello hanno provato a sabotare il prototipo del reattore Per impedirne lo sviluppo E poi? Non lo so, non ancora Finn ha registrato tutto con il telefono Ma lo ha lasciato nel laboratorio Sto andando a recuperarlo Beh, io sono qui Chiama, sì Ricevuto Ricevuto I laboratori Robson È qui che la ricerca sul Nuform ha avuto inizio Il telefono di Finn è lì dentro E ora so anche come entrare Scudo elettrificato nel condotto Cosa lo alimenta? Cosa lo alimenta? Ehi! L'ho diventato! Ehi, prendi! Ok Ora non mi resta che entrare L'assorbimento ha fuso il generatore Non pensavo avrebbe funzionato E sono dentro E rompere in un laboratorio pieno zeppo di guardie armate Precisamente non è il solito Natale Dovrei essere a casa a dormire A giocare a un sacco di videogiochi E rimpinzarmi di biscotti fino a scoppiare Dove si va? Un attimo Ho girato in tondo Il tizio che installò questo ha decisamente gonfiato il suo curriculum Puzzo già di muffa Il rilevatore ha localizzato il telefono in profondità Oh oh È stato rilevato un incluso nel sistema di strada Sono underground Uccideteli Spider-Man e Tinkerer ci servono vivi Ricevuto In caso di problemi Cosa ridi? Caspita Miles Per essere così smilto Spicchi forte Zio Aaron Tu sei i Prowler? Papà aveva un intero file su di te Lo so E immagino che avrai molte domande Ma prima dobbiamo uscire da qui Hai scelto il posto sbagliato in cui entrare Non intendo andarmene così a mani vuote Senti Io ho lavorato per quelli della Robson Ed è gente poco raccomandabile Se ci trovassero qui Allora aiutami Ah Testardo come tuo padre E va bene Ma faremo a modo mio So come accedere ai terminali di sicurezza Ti guiderò da lì Mine a distanza Usale quando sei nei guai Non farti scoprire Vedi il condotto con il laser? Come hai fatto? Ho già lavorato Concentrati È l'occasione per provare le mine a distanza Che succede alle telecamere? Un altro blackout? No, quello era Dai Rino ha distrutto un'intera centrale elettrica Potrebbe interessare più di una Cosa c'è di preciso? Un telefono A giudicare dal segnale Dovrebbe trovarsi molto più in basso Il punto più basso dell'edificio è la base del reattore Non so dove andare Resterà il bernoccolo Dovrebbe esserci un condotto nella stanza Porta al laboratorio e al reattore Le reattore del Newform? Stando ai progetti, sì Ehi Dov'è il Newformo che ho chiesto? Eh Cerchiamo di produrlo Ma Mason non ha lasciato appunti E? Beh Ho saputo che una capsula di Newform è sopravvissuta al disguido del ponte Ecco Se avessimo quella Se l'avessi Te l'avrei data Non credi? Certo, signor Krieger Dico solamente che Senza quella capsula Non potremmo rispettare le scadenze Io Tutte le mie non poche risorse Sono impegnate nella ricerca della capsula Tuttavia Adesso Apprezzerei che tu tornassi in laboratorio Per fare Il tuo lavoro Krieger ha poco tempo Di chi è il telefono che stai cercando? Di Tinker Posso sapere perché mi stai pedinando? Per proteggerti Dovresti essere lusingato Sono tornato in attività solo per te Non riesco a credere che un zio sia fraude E io non riesco a credere che mio nipote rischi il collo per un telefono Andiamo avanti Sei vicino al prototipo del reattore Togli di mezzo i soldati Versaglio il volo È tuo questo? Siamo noi l'autorità qui Prendi Spider-Man Ho una sorpresa per te Minaccia attiva ingaggiata Ottimo lavoro Grazie Il silo si trova oltre quella barriera Usa il terminale per aprire Aspetta Ci sono altri laboratori in città E un reattore nu form in ciascuno Quella schifezza ha intossicato Rick Vanno fermati Concentrati Prendi il telefono e vanno Il reattore è giù Alimenta l'intera base Il telefono è lì sotto Devo trovare un modo per superare quella ventola E anche quei tipi Te l'ho già detto Non farti scoprire Non è la tua giornata Scusa Devo essere più veloce Ciao gang Volevo solo sapere se stai bene Se sei ancora vivo Grazie Mi sta dando una mano anche mio zio Chi? Il tizio della metro? Sì E ho scoperto che è anche Prowler Una lunga storia Aspetta Quel Prowler? Un criminale con il costume viola? Ex criminale Non siamo alleati È solo per questa volta Un zio è un frau Che notizia Una vera bomba Lo so Devo andare Genki Ci sentiamo più tardi Via le figure In gaggio frizzato Al primo movimento Sparate Allarme intruso Accettate i resi Femm Non è0000 Un scoperto Non è Quotre Unc Matt Unc 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 E non riscati questo! Va in fretta. Sto disattivando allarvi e telecamere per impedire che ne arrivino altri. Taglia i cavi, giocala bene. Grazie! E vai! Signora i cavi. Bene! La batteria è scarica. Non esplodere. Bene. Ok. Fotocamera, video... Ecco qui! Ok. Il nucleo va svuotato in due. Tu azioni il comando qui, io confermo da là. È il primo passo per liberarci dell'Uforum. Non ti dispiace? Distruggere la tua scoperta. Vedi come sono messo. Devo proteggere il mondo. Pronto? Pronto. Modalità manuale tra tre... Due... Vena! Io non c'entro! Sabotaggio industriale... Davvero. Nessuno piangerà a qualche malato nei quartieri poveri o un ingegnere morto. È un sacrificio in nome dei miei mari. No! 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 Pink! Pink, no! No! Pink! Non guardare! C'è un altro intruso. Trovata. Rick voleva salvare delle vite. E Krieger l'ha ucciso. Finirò ciò che hanno iniziato. Zio Aaron, vuoi sbloccare lo scudo del reattore da dove sei? Perché hai il telefono. Scappa! Quel reattore ha ucciso un mio amico. Deve essere spento. Per sempre. Mi devi aiutare, Zio. Per favore. Zio Aaron? Ok. Indietro. Grazie. Ol pò. Coteva nei miei di di Sparta. Cosa fa! È vero il inteno. È vero! La sua muro! Ma... più grande! Che cosa fai? Vai! Vai bene! Devi andartene da lì, puoi muoverti. Sì. Scappa lungo il corridoio! Mi sento... veramente apparsi. È come se... mi facessi... affetti! Non riesco... a contenerla! Mike, rispondi ragazzi, stai bene? Mi sento come se fosse caduto da un aereo. Ma almeno il reattore è sistemato. Sei quasi fuori. Avevo bisogno di quel telefono. E ora come faccio? Venga ragazzo, la Roxxon sarà lì a momenti. Arrenditi! La tua corsa finisce qui! Fanno l'ordine di Caponato. Perché? Cosa voglio? Gli arti, interroganti. Non lo so e non riporto. Devi solo scappare. Estranizzo, Spider-Man! Diamide! Sei spacciato! Miles, sono stato espulso dal sistema. Dammi un attimo. Fino fuori di lì. Fatto. Non hai scampo! Ehi! Prendi! Lancia più avanti! Andiamo, prima che ne arrivino altri. Oh! Che sistema di occupamento! Ma come... Vai! Non vai a sinistra! Io a destra! Si mette male, Miles! Molto male! Tranquillo! Possiamo farcela! Le guardie sono in pieno. I veri guai iniziano quando saremo fuori da qui. Ora Krieger ci vuole morti. Ti caccio il bersaglio! Ho una sorpresa per te! Guardi la tua terra! Prendiamo la terra! Non ci vuole, monzo! Prendete subito! Occhio! Soprà arrivare il treno dell'Ambia! Si, che pensa! Lo capirai! Pensa a combattere! Soprà arrivare il treno dell'Ambia! Devi restare nascosto! Non fidarti di nessuno! E non toglierti la maschera! Aspetta che la Roxxon cambi oggettivo! Non posso stare, Tim! Devo ancora trovare Finn! La tua amica è Tinkerhead! Ecco perché sei tanto coinvolto! Non è solo questo! Ora... Io devo proteggere New York! Usa Finn! Dille che vuoi unirti all'Undercrant! Hai detto di tenere la maschera! Non devi dirle che sei Spider-Man! Avvicinala come ami! È troppo intelligente! Ah, non credere! Siamo più stupi quando teniamo a qualcosa! Come lo sei tu proprio ora! E se le dicessi chi sono? Io l'ho detto a tuo padre! Credevo mi appoggiasse! Lo speravo! Era mio fratello! Invece mi ha tagliato fuori! Se me ne fossi stato zitto, forse avrei ancora una famiglia! Sai che cosa devi fare! Ah! 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 Ah!